L'ordine del giorno rega l'audizione del dottor Enzo Serata, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, accompagnato dal dottor Alfredo Tidu, vice direttore sempre dell'UIF. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito dei colleghi ed in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Io quindi do direttamente la parola al dottor Serata per la sua relazione, che voglio ringraziare per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Prego. Grazie Presidente, onorevoli senatori e deputati. Ringrazio sentitamente per l'invito a svolgere questa audizione. Le cronache delle ultime settimane hanno posto in evidenza il tema di fondamentale importanza della tutela della riservatezza delle informazioni gestite dalle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In tale quadro, questo intervento mi dà l'occasione di chiarire il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel contesto nazionale e internazionale. Mi soffermerò in particolare sulle segnalazioni di operazioni sospette, indicandone caratteristiche, dinamica evolutiva anche dal punto di vista qualitativo, trattamento in termini di analisi finanziarie e disseminazione da parte della UIF e di feedback da parte degli organi investigativi. Illustrerò quindi l'assetto regolamentare a tutela della segretezza delle sosse e le garanzie di sicurezza attivate dalla Banca d'Italia e dalla UIF per il loro esame, soprattutto in termini di presidi informatici, amministrativi e di controlli interni. In tale ambito, anticipo che i casi di indebita fuoriuscita di notizie riservate tratte da segnalazioni di operazioni sospette sono stati sempre attentamente vagliati dalla UIF. I controlli attivati hanno in tutti i casi escluso violazioni dei detti presidi di sicurezza e responsabilità degli addetti all'Unità, che ho l'onore di dirigere. Sulla cui integrità, professionalità e dedizione si fondano riconosciuti livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel tempo da l'UIF. Concluderò il mio intervento dando conto delle ulteriori iniziative intraprese a fini di tutela della riservatezza delle sosse e delle possibili aree di intervento normativo per migliorarla ulteriormente. Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio ha origini lontane. I primi presidi normativi sono stati introdotti più di 30 anni fa, in anticipo rispetto all'intervento del legislatore europeo. Nel tempo, in attuazione degli standard internazionali e delle direttive europee, è stato progressivamente esteso il novero dei destinatari degli obblighi. Si sono ampliati in misura molto significativa i volumi e le tipologie di informazioni trattate, funzionali all'analisi finanziaria e allo sviluppo di indagini investigative a supporto dei successivi interventi giudiziari. L'estensione e la precisazione degli obblighi in termini soggettivi ed oggettivi ha rappresentato una costante dello sviluppo normativo. L'evoluzione del sistema, l'esperienza e i risultati raggiunti hanno posto le basi per l'utilizzo delle definizioni degli istituti previsti dalla normativa antiriciclaggio anche in altri ambiti. In primo luogo per la prevenzione di reati gravi anche diversi del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo internazionale, del finanziamento di programmi di proliferazione di armi e distruzione di massa e da ultimo in relazione al divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività inerenti alle mini antipersona e all'attività di prevenzione connesse alle misure emergenziali di contrasto alla pandemia e all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'estensione della disciplina sull'individuazione del titolare effettivo. L'assetto delle autorità nazionali risulta articolato e ben funzionante, sotto il coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in applicazione delle politiche generali definite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, presidito dal Direttore Generale del medesimo Ministero. Tutti gli attori, coerentemente con le rispettive funzioni istituzionali, rivestono un ruolo fondamentale ai fini dell'efficacia dell'apparato di prevenzione. La UIF ha il compito di ricevere, analizzare e disseminare le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Essa svolge quindi un ruolo di raccordo tra la componente privata e quella pubblica del sistema, esercitando anche compiti regolamentari e di controllo su una vasta platea di operatori, di sviluppo delle analisi strategiche in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di collaborazione internazionale e nazionale. Per quanto riguarda i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, nel corso del tempo agli intermediari bancari e finanziari si sono aggiunte diverse tipologie di operatori, anche non finanziari, che svolgono attività ritenute particolarmente esposte a rischi di riciclaggio. Dagli operatori di gioco, alle società di recupero crediti, alle case d'asta e di professionisti, notai, avvocati e commercialisti. A carico di quest'ampia platea di soggetti, sono posti specifici obblighi di valutazione del rischio di riciclaggio, insito nella propria attività, di adeguata conoscenza della clientela, di tracciabilità e conservazione dei dati e delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. A valle dell'attività della UIF, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia sono chiamati a effettuare gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette. La Guardia di Finanza è inoltre titolare di specifici poteri di controllo, in particolare nei confronti dei destinatari degli obblighi non sottoposti a vigilanza. Le autorità di vigilanza di settore, Banca d'Italia, Consob e Ivas, esercitano potestà normative e svolgono attività di supervisione in materia di assetti organizzativi e di controllo antiriciclaggio nei confronti dei soggetti di rispettiva competenza. Le amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione hanno compiti di verifica su specifiche categorie di operatori non finanziarie e sui professionisti. Dal 2017 la normativa prevede che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo acquisisca determinate informazioni utili all'attività di coordinamento e impulso delle indagini in materia di criminalità organizzata, di contrasto del terrorismo e, da ultimo, di reati informatici. I risultati del sistema di prevenzione sono dunque funzionali non solo a proteggere l'economia e la finanza dalle infiltrazioni criminali, ma anche allo svolgimento delle investigazioni e alla repressione del riciclaggio e dei reati presupposti. La UIF rappresenta dal 2008 la Financial Intelligence Unit italiana, struttura posta dai principi internazionali in posizione centrale all'interno del Sistema Nazionale di Prevenzione del Riciclaggio. La collocazione della UIF italiana presso la Banca d'Italia, puntando sulla natura amministrativa della struttura, sulle specifiche competenze finanziarie del personale, sulla consuetudine di rapporti col mondo finanziario e sulle sinergie con le funzioni di supervisione bancaria e finanziaria, agevola lo sviluppo di analisi finanziarie che orientano i successivi approfondimenti investigativi ed eventualmente giudiziari e, nel contempo, contribuisce a rafforzare il necessario requisito di piena autonomia e indipendenza dell'unità, posta all'interno di un'istituzione a sua volta indipendente. Consente altresì di usufruire dei servizi tecnologici avanzati forniti dal Dipartimento Informatica della Banca d'Italia. All'inizio dello scorso anno è stato ulteriormente articolato l'assetto organizzativo dell'unità, ora basato su tre servizi, denominati Operazioni Sospette, Normativa e Collaborazione Istituzionali e Valorizzazione delle Informazioni e Innovazione Tecnologica, ripartiti in 13 divisioni. La riorganizzazione è stata accompagnata da un aumento del numero di addetti, che ad oggi sono poco meno di 190. L'unità, per sua stessa natura, ha una forte proiezione internazionale. Segue i lavori del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, il GAFI, è membro del Gruppo Egmont, l'organizzazione globale delle FIU, che elabora policy e linee guida per rafforzare la collaborazione nell'individuazione di rischi e tipologie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, con una specifica piattaforma informatica, agevola lo scambio di informazioni tra le FIU aderenti. A livello europeo, l'unità svolge un ruolo propositivo all'interno della piattaforma delle FIU, sede in cui le FIU dell'Unione e la Commissione europea si confrontano sull'applicazione di regole, sullo sviluppo degli strumenti di analisi e sullo svolgimento di esercizi di analisi congiunta relativi a casi di operatività sospetta a carattere transfrontaliero. La piattaforma gestisce inoltre la rete FIU.net per lo scambio di informazioni tra le FIU dei Paesi dell'Unione. Negli scorsi mesi è stato raggiunto un accordo sulle ultime tre proposte legislative che compongono il nuovo assetto regolamentare dell'Unione europea, il cosiddetto AML Package, dopo intensi negoziati a cui l'unità ha contribuito in stretto raccordo con le istituzioni competenti. Fulcro del nuovo quadro normativo armonizzato a livello europeo è la costituzione di una nuova autorità antiriciclaggio europea, con sede a Francoforte, che agirà nella doppia veste di supervisori antiriciclaggio europeo e di meccanismo di supporto e coordinamento delle FIU. Il ricorso allo strumento del regolamento per la disciplina di numerosi presidi normativi riduce gli spazi di manovra concessi ai vari legislatori nazionali ed elimina i rischi di arbitraggi regolamentari che hanno finora contraddistinto la materia. Parte della disciplina è inoltre contenuta nella cosiddetta sesta direttiva antiriciclaggio che sarà oggetto di prossimo recepimento. Il sistema antiriciclaggio italiano è considerato all'avanguardia nel contesto europeo ed è valutato positivamente dagli organismi internazionali. Per quanto concerne l'attività dell'UIF, le analisi operative e strategiche sono state giudicate dal GAFI nell'ultima valutazione complessiva del 2016 e nel successivo aggiornamento del 2019 di elevata qualità e quindi tali da supportare gli organi amministrativi e gli organi investigativi nell'avvio di indagini per riciclaggio, reati sui risupposti e finanziamento del terrorismo. Nella seconda metà del 2024 prenderanno avvio le attività del cosiddetto quinto round di mutual evaluation del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI con verifiche che avranno oggetto la sua conformità formale dell'assetto normativo rispetto agli standard la tecnica compliance cosiddetta e la valutazione della sua efficacia la cosiddetta effectiveness. I lavori preparatori presso il MEF si sono avviati nelle scorse settimane. L'impegno per tutte le autorità coinvolte è estremamente oneroso e richiede un intenso coordinamento. Pilastro centrale del sistema antiriciclaggio è la segnalazione delle operazioni sospette strumento con il quale si portano a conoscenza dell'OIF le operazioni per le quali si sa si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi indipendentemente dalla loro entità provengano da attività criminosa. Il sospetto deve fondarsi su una valutazione completa di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta. La UIF è quindi chiamata a effettuare l'analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute avvalendosi dell'ampio patrimonio di dati in suo possesso degli scambi con le omologhe autorità estere utili alla luce dei risvolti transnazionali di molte operatività sospette nonché del supplemento di informazione ottenuto dagli scambi informativi sui singoli soggetti di interesse della DNA ovvero interpellando i segnalanti e gli altri destinatari degli obblighi di prevenzione. Le analisi della UIF sono volte a comprendere sotto il profilo tecnico-finanziario il contesto da cui scaturisce la segnalazione a individuare i collegamenti soggettivi e operativi a ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e a identificare le possibili finalità. Le segnalazioni di operazioni sospette e le relative analisi sono trasmesse al Nucleo Speciale di Pulizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla DIA per i successivi approfondimenti investigativi. I dati anagrafici dei soggetti presenti nelle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute sono periodicamente trasmessi alla DNA in forma anonimizzata utilizzando algoritmi di hashing al fine di acquisire indicatori che agevino un'individuazione di contesti collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo oltre che consentire la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziali in corso. Solo nei casi di positività cioè il cosiddetto matching anagrafico positivo alla DNA sono inviati dati e informazioni tratti da tali segnalazioni utilizzate anche al fine di esercitare il potere d'impulso di nuove investigazioni. Dalla Costituzione dell'UIF si è registrata un'eccezionale crescita del numero delle segnalazioni che sono passate dalle circa 12.500 del 2007 alle oltre 150.000 nel 2023. Complessivamente le sosse ricevute nel 2023 si riferiscono a 1.400.000 ricorrenze soggettive cioè la presenza di persone fisiche o giuridiche 980.000 rapporti e 1.800.000 operazioni quindi come vedete una massa di informazioni davvero considerevole. L'incremento quantitativo è accompagnato dalla progressiva crescita della partecipazione al sistema di segnalanti in passato meno attivi dalla diversificazione delle forme tecniche delle operatività oggetto di valutazione dalla riduzione dei tempi di trasmissione delle sosse rispetto al momento in cui si svolgono le operazioni dalla crescita del livello di complessità delle informazioni contenute nelle segnalazioni. Si tratta di elementi sintomatici della migliore capacità di una buona parte dei soggetti obbligati di intercettare fenomeni anche nuovi e articolati. La profondità e l'ampiezza delle analisi finanziarie svolte dall'UIF si fondano su un patrimonio di dati in progressivo aumento e in costante aggiornamento disponibile sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi con altre autorità. Dal 2019 il patrimonio informativo della UIF si è arricchito con le cosiddette comunicazioni oggettive introdotte in attuazione di previsioni europee che gli intermediari bancari e finanziari indipendentemente dalla sussistenza di un sospetto sono tenuti a inviare alla UIF in relazione all'operazione di versamento e prelevamento di contante di importo superiore alla soglia di 10.000 euro complessivi su base mensile. Un notevole incremento si sta registrando anche nelle informazioni che affluiscono all'unità nell'ambito della cooperazione internazionale fenomeno anche questo destinato a un rapido e ulteriore incremento in relazione alla progressiva integrazione europea e al carattere sempre più transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché alla minaccia del cybercrime. Oltre alle richieste e alle informative spontanee ricevute da altre FIU già in costante aumento negli ultimi anni particolarmente significativa è la crescita del flusso di segnalazioni cosiddette cross-border inviate da FIU di paesi europei dove sono insiedati intermediari che operano in libera prestazione di servizi in Italia o quando sussistono elementi di collegamento con altri Stati membri. Le risposte fornite dalle FIU estere alle richieste inviate dalla UIF si rivelano sempre più spesso di supporto per orientare le indagini dell'autorità giudiziaria o degli organi investigativi. All'arricchimento del patrimonio informativo a disposizione dell'unità contribuiscono l'attività ispettiva e gli scambi con l'autorità giudiziaria gli organi investigativi e le autorità di controllo. Le ispezioni seppur limitate nel numero sono uno strumento utile anche per la conoscenza di fenomeni nuovi e per la sensibilizzazione di operatori finora poco partecipi al sistema. La collaborazione con l'autorità giudiziaria è sempre molto intensa sia in termini di richieste di dati e notizie mediamente più di 400 all'anno negli ultimi 5 anni sia per il contributo diretto ad alcune importanti investigazioni mediante specifici approfondimenti su aspetti finanziari. Significativo è lo scambio di informazioni con altre autorità fondato anche sulla definizione dei protocolli d'intesa. Particolare rilievo assume la richiamata acquisizione di informazioni soggettive dalla DNA a fini di classificazione delle operazioni sospette collegate alla criminalità organizzata al terrorismo e a reati informatici. Recenti sono la stipula di un accordo d'intesa con l'EPO con l'European Public Prosecutors Office e l'aggiornamento di quello con l'Agenzia delle Dogane e dei Motomoli. Un ulteriore flusso di informazioni proviene dai dati raccolti a fini di prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale e per l'applicazione delle sanzioni economiche. Si tratta di profili che hanno assunto da ultimo una rilancia molto significativa in relazione alle azioni che minacciano l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e più di recente al conflitto israelo-palestinese. Gli approfondimenti condotti da lui fin questi anni sono stati di particolare delicatezza e hanno riguardato ambiti molto diversi con testi di criminalità comune e organizzata case di corruzione di funzionari anche di alto livello e di appropriazione di denaro pubblico reati fiscali in alcune situazioni queste casistiche hanno portato all'identificazione di veri e propri sistemi criminali. Il buon funzionamento del sistema è testimoniato anche dal feedback positivo ricevuto dagli organi investigativi. In particolare per le segnalazioni inviate agli organi nel biennio 2022-2023 a metà marzo 2024 la Guardia di Finanza aveva inviato circa 54.000 riscontri positivi riguardanti per oltre l'81% segnalazioni valutate dall'UIF rischio alto e medio alto. Nello stesso periodo la Direzione Investigativa Antimafia ha inviato 158 feedback positivi concentrati in quasi il 90% dei casi in segnalazione a rischio alto e medio alto. Ne discende che una quota pari a circa il 20% delle sosse ha un'immediata efficacia sul piano investigativo. Tale percentuale elevata nel confronto internazionale sale di molto se si considera anche l'utilizzo a fini amministrativi e di accertamento fiscale da parte della stessa Guardia di Finanza. La crescita delle segnalazioni va sicuramente valutata positivamente come indice di una maggiore sensibilità degli operatori. In taluni casi essa appare però la conseguenza di approcci cautelativi o burocratici assunti dai soggetti obbligati per non incorrere in procedimenti sanzionatori piuttosto gravosi ovvero il risultato della meccanica applicazione di procedure di selezione automatica delle anomalie. Il fenomeno appare rilevante. Poco meno di un terzo delle segnalazioni presenta infatti un rischio basso o nullo di riciclaggio. Torneremo su questo aspetto successivamente. Questo tipo di segnalazioni riscontrato nelle comunicazioni di intermediari anche di dimensioni significative non è corroborato come dovrebbe da un'effettiva valutazione dei sospetti e pertanto finisce per costituire un inutile appesantimento per l'attività di analisi delle operazioni sospette. Più in dettaglio si diffonde l'utilizzo specie presso primari intermediari bancari e finanziari di nuovi e più sofisticati meccanismi di individuazione delle anomalie basati anche sull'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale che permettono di trattare le enorme mole di informazione a disposizione dei segnalanti e individuare e quindi trasporre all'interno delle SOS contesti complessi di operatività sospetta caratterizzate dal coinvolgimento di moltiplici entità soggetti rapporti o di operazioni sebbene si tratti di strumenti utili è necessario gestire i rischi che derivano da una più spinta automazione in particolare rispetto a possibile imprecisione negli algoritmi utilizzati o difetti di trasparenza dei medesimi in particolare occorre testare attentamente dalle sistemi al fine di verificarne l'efficacia prima della loro entrata in produzione e assicurare che le operazioni sospette non siano prodotte automaticamente ma siano vagliate da analisti dotati di adeguate professionalità ed esperienze al fine di evitare tali problemi la UIF adotta un approccio costruttivo fondato su diverse forme di interlocuzione con i segnalanti e su controlli delle omissioni segnaletiche non indiscriminatamente punitivi ma volti ad apprezzare l'effettiva gravità e consapevolezza delle violazioni la qualità della collaborazione attiva è di importanza cruciale per il suo impatto sull'efficacia e sull'efficienza del sistema antiriciclaggio nel suo complesso la qualità delle segnalazioni si riflette infatti sull'analisi della UIF perché incide sulla capacità di valutazione e di selenzione dei contesti sull'apprezzamento del rischio sulla piena integrazione e valorizzazione delle formazioni disponibili l'impegno della UIF su questo tema è stato formalizzato nell'obiettivo 2 del piano strategico 2023-2025 che punta a favorire la collaborazione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle segnalazioni tale finalità è strettamente funzionale anche all'obiettivo 1 del piano incentrato sul potenziamento dell'attività di analisi finanziaria e all'obiettivo 3 sul rafforzamento della collaborazione con gli interlocutori istituzionali gli indicatori di anomalia ossia l'elencazione di casistiche utili ad agevolare i destinatari nell'individuazione delle segnalazioni sospette la cui rinnovata versione è entrata in vigore all'inizio di quest'anno ribadiscano e rafforzano l'esigenza di inviare segnalazioni corredate di effettivi elementi di anomalia soggettivi e oggettivi e di considerare adeguatamente gli elementi giustificativi dell'operatività o della prestazione richiesta è in fase di realizzazione un progetto per dotare la UF di un sistema per il monitoraggio strutturato della qualità della collaborazione attiva che prevede la costruzione di un sistema di indicatori volte a evidenziare prassi segnaletiche potenzialmente anomale anche sulla base del confronto di ciascun segnalante con il rispettivo gruppo di riferimento gli esiti del monitoraggio saranno condivisi con i segnalanti sia mediante la comunicazione di report individuali sia con il confronto diretto finalizzato a definire le carenze e le possibili conseguenti azioni correttive dal punto di vista operativo a fronte del continuamento dei flussi di segnalazioni trasmesse la UIF ha affinato costantemente i propri processi di lavoro e di analisi i metodi e le tecnologie impiegati l'organizzazione del lavoro sono stati progressivamente rinnovati vagliando sempre attentamente costi e benefici e dedicando la massima attenzione ai profili di sicurezza e riservatezza delle informazioni gli avanzamenti nella quantità e nella qualità degli approfondimenti e il rafforzamento delle attività di collaborazione sono stati realizzati grazie all'introduzione nel 2011 di una innovativa piattaforma per la raccolta e la gestione delle segnalazioni cosiddetta procedura radar e al completamento nel 2015 del data warehouse dell'unità che integra le basi dati utilizzate per le analisi si è inoltre proceduta la specializzazione delle attività di analisi finanziaria e la realizzazione a partire del 2013 di un sistema dedicato alla gestione informatica degli scambi con gli organi investigativi cosiddetta procedura SAFE che è stata poi estesa all'autorità giudiziaria negli anni successivi sono proseguite le attività di evoluzione e ampliamento degli strumenti informatici dell'unità in stretto coordinamento con il Dipartimento Informatica della Banca d'Italia in particolare sono state rese disponibili agli analisti versioni progressivamente più ampie della nuova interfaccia radar è stato realizzato un sistema di calcolo e consultazione di un articolato insieme di indicatori volti a fornire indicazioni di sintesi relativamente alla possibile classificazione alle modalità di trattamento delle segnalazioni stesse sono stati introdotti strumenti di graph analysis in grado di rappresentare relazioni complesse emergenti da tutte le fonti informativi disponibili non immediatamente ricavabili dall'esame delle singole segnalazioni al fine al fine di elevare la capacità dei soggetti obbligati di valutare la qualità della propria collaborazione attiva e di agevolare l'adempimento del dovere di segnalazione la UIF ricorre a varie forme di feedback anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla DIA e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria non mancano le occasioni di confronto con le associazioni di categorie e gli organismi di autodisciplina né il loro coinvolgimento in iniziative formative Nel 2022 sono state introdotte innovazioni significative nel riscontro da fornire segnalanti sulle sosse valutate a basso livello di rischio di riciclaggio le cosiddette sosse di tipo A cioè prive di sufficienti scenari di rischio pari al 9% delle sosse e sosse di tipo B connotate da deboli elementi anche investigativi a supporto del sospetto che hanno costituito poco meno del 20% del totale delle sosse dell'anno tale informazione possono aiutare i segnalanti ad affinare i processi di selezione e di valutazione dell'operatività sospetta oltre che a verificare di non aver omesso informazioni di rilievo che avrebbero potuto indurre una diversa valutazione da parte dell'unità l'invio di questi esed infatti intende avviare un dialogo virtuoso tra la UIF e i segnalanti che sono invitati a proporre una nuova sosse all'emergere di informazioni nuove o precedentemente trascurate l'unità agevola poi l'individuazione delle operazioni sospette diffondendo tempestive comunicazioni sui rischi emergenti e sui comportamenti finanziari a essi collegati nonché richiamando fenomenologie sospette attraverso la definizione di modelli e schemi la pubblicazione di casistiche di riciclaggio e di analisi la recente revisione integrale dei citati indicatori di anomalio ha inteso contemperare le esigenze di aggiornamento delle operatività rilevanti con quelle di semplificazione e sistematizzazione delle molteplici fattispecie indicate nel corso del tempo in provvedimenti indirizzati alle diverse categorie di segnalanti in particolare tutti i destinatari degli obblighi sono chiamati a qualificare in maniera chiara e appropriata le tipologie di attività da esaminare evitando indiscriminate assimilazioni tra anomalie e sospetti e a correlare sempre i profili soggettivi e oggettivi delle operatività individuate descrivendo le valutazioni compiute anche quando esse muovono da procedure automatiche di selezione dal punto di vista dell'organizzazione interna dell'unità e della gestione del patrimonio informativo proseguono gli sforzi e gli investimenti per l'adeguamento della struttura e delle risorse al contesto in evoluzione per favorire la specializzazione e la focalizzazione su tematiche di particolare rilevanza per l'implementazione di sistemi informatici sicuri e progettati sulle specifiche esigenze in modo da continuare a mantenere la fio italiana sulla frontiera dell'innovazione con riferimento agli aspetti di regolamentazione interna la UIF nel corso degli ultimi anni ha emanato diverse circolari a tutela della riservatezza tra cui in particolare la numero 10 del 2019 in materia di segnalazione di operazioni sospette riguardanti persone politicamente esposte o partiti politici che stabilisce particolari modalità di identificazione trattazioni e tempistiche massime di analisi delle sosse concernente pep nazionali ovvero partiti politici la numero 13 del 2021 in materia di attività di controllo interno che istituisce e disciplina un'apposita funzione di controllo interno sui processi di lavoro della UIF dalla sua istituzione tale funzione ha condotto 19 verifiche in occasione di attrettanti casi di stralce di sosse pubblicate dalla stampa dalle quali non sono mai emerse anomalie la numero 34 del 2023 in materia di tutela della riservatezza delle informazioni in possesso della UIF che sostituisce e amplia l'ambito di applicazione di una precedente circolare del 2018 in cui sono previste tra l'altro particolari cautene nel trattamento delle segnalazioni contenente riferimenti a un sottinsieme più rilevante di persone politicamente esposte nonché la previsione di un monitoraggio nel continuo degli accessi ai sistemi informatici aziendali e in caso di accessi ritenuti meritevoli di approfondimento la verifica dell'informazione a cura dei capi dei servizi e della funzione di controllo interno dell'unità al contempo la UIF considera la formazione continua del personale uno strumento fondamentale di innovazione e di aumento dell'efficienza specifici cicli formativi interi riguardano le tecniche e gli strumenti di analisi finanziaria nel corso dei quali sono esposte e commentate le casistiche più rilevanti e innovative altre iniziative riguardano aspetti di carattere normativo i rapporti internazionali e non da ultimo la tutela della riservatezza dal punto di vista dei presidi tecnologici l'acquisizione dei flussi segnaletici dall'esterno così come la disseminazione agli organi investigativi e la DNA avvengono tramite i canali informatici crittografati e connotati da elevati requisiti di sicurezza rispettivamente il portale InfoStat UIF e la procedura SAFE anche le fasi di trattamento interno delle segnalazioni di operazioni sospette le interlocuzioni con i segnalanti e gli scambi con l'autorità giudiziaria avvengono con modalità protette tramite le già citate procedure informatiche dedicate radar e SAFE si tratta di ambienti informatici che non solo garantiscono la sicurezza degli scambi ma prevedono anche la possibilità di effettuare il monitoraggio degli accessi alle informazioni da parte degli addetti e quindi di ricostruire la loro coerenza con i fini istituzionali l'accesso alle predette procedure è riservato al personale della UIF che opera nell'ambito di processi standard e formalizzati e solo medianti personal computer forniti dalla Banca d'Italia e dotati dei più elevati standard di sicurezza compresa la cifratura dei supporti il processo di assegnazione e di sviluppo delle sosse all'interno della procedura radar prevede sequenze operative formalizzate sulla base di un sistema di ruoli assegnati al personale dell'unità ogni singola sosse viene automaticamente attribuita dalla procedura radar a una specifica divisione sulla base di prefissati criteri di ripartizione interni all'unità la procedura radar tra gli altri arricchimenti informativi associa automaticamente la sosse ad altre segnalazioni che hanno in comune soggetti o rapporti facenti capo anche ad altre divisioni il capo della divisione o un suo delegato attribuisce la segnalazione a un lettore per l'analisi di primo livello nel caso si rendano necessari o opportuni specifici approfondimenti finanziari il lettore assegna la sossa a un analista per la redazione di un'apposita relazione tecnica una volta terminato l'approfondimento la segnalazione e la relativa relazione vengono nuovamente inviate dall'analista al lettore e al capo della divisione per l'approvazione e la trasmissione agli organi investigativi nei casi più complessi e delicati l'approvazione compete al capo del servizio operazioni sospette che può portare il caso all'attenzione della direzione dell'UIF le segnalazioni ricevute dall'UIF sono integrate con altre fonti informative derivanti da archivi della Banca d'Italia ad esempio la centrale dei rischi contenente informazioni connesse agli affidamenti concessi dal sistema bancario e finanziario a persone fisiche e giuridiche nonché da base dati acquisite sul mercato ad esempio la centrale dei bilanci relativa ai bilanci delle imprese italiane la base dati Orbis contenente informazioni su circa 180 milioni di aziende in tutto il mondo word check e cervede per le evidenze tra l'altro relative a nominativi coinvolti in reati di interesse per il sistema antiriciclaggio il personale dell'UIF faccede altresì a base dati gestiti da soggei l'anagrafe dei rapporti e l'anagrafe tributaria sulla base di apposita convenzione con l'agenzia delle entrate e seguendo le polisi di sicurezza definite dall'agenzia stessa ogni interreguazione di tali archivi deve essere approvata dal superiore gerarchico nel tempo l'UIF ha assunto iniziative per la manutenzione l'aggiornamento e il potenziamento di tali sistemi e ha definito presidi tecnici e amministrativi e di supervisione interna dei processi di lavoro dal punto di vista amministrativo come sopra ricordato è stata emanata e costantemente aggiornata un'apposita disciplina interna nel 2001 anche in relazione alla pubblicazione sulla stampa di notizie riconducibili a SOS è stata richiesta una verifica del servizio di revisione interna della Banca d'Italia che a seguito dell'accertamento svolto pur non rilevando anomalie ha fornito alcuni suggerimenti per ridubustire ulteriormente i presidi prontamente valutati e implementati i sistemi informatici dedicati al trattamento delle SOS realizzati a partire dal 2011 sono stati costantemente migliorati nel corso del tempo adottando soluzioni tecnologiche moderne architetture pienamente integrate nel sistema informatico della Banca d'Italia nel rispetto di una piena segregazione logica delle informazioni e assetti di sicurezza coerenti con i più avanzati standard internazionali nel dettaglio i principali presidi informatici includono autenticazione e due fattori per tutti gli utenti interni ed esterni la cifratura delle connessioni con i sistemi informatiche dei soggetti esterni segnalanti organi investigativi e autorità giudiziaria e fra i sistemi interni al fine di proteggere i dati durante i trasferimenti cifratura dei dati registrati sui sistemi della Banca d'Italia per evitare che si possano verificare accessi ai dati in connessione a operazioni sui supporti fisici di archiviazione cioè sui dischi segregazione delle utenze di amministrazione tecnica del database per impedire l'accesso ai dati nel corso delle operazioni di manutenzione registrazione degli accessi ai dati effettuati dagli utenti interni sia tramite le applicazioni log applicativo sia tramite accesso diretto alla base data log infrastrutturale tempestiva applicazione delle correzioni dei software e dei sistemi informatici allestite dai fornitori per sanare le vulnerabilità di sicurezza l'adeguatezza dei presidi informatici è oggetto di verifiche costanti da parte del Dipartimento Informatica che hanno sempre riportato bassi livelli di rischio residuo nei prossimi mesi nell'ambito di una specifica iniziativa già inclusa nel piano informatico della Banca d'Italia sono previsti interventi di ulteriore affinamento e rafforzamento dei presidi di sicurezza dei sistemi interni della UIF che includono l'adeguamento dei ruoli di accesso alle informazioni per tener conto della recente riforma organizzativa dell'unità l'arricchimento dell'attuale sistema di tracciamento degli accessi con l'obiettivo di disporre informazioni ancora più granulari da utilizzare nelle attività di supervisione interna dei processi il potenziamento di specifici ambienti dotati di dati anonimizzati che consentano di soddisfare le esigenze di produzione statistica riducendo la necessità di accedere a dati nominativi l'introduzione di ulteriori presidici specifici per la consultazione e l'analisi delle sosse riguardanti i PEP parallelamente un rafforzamento della sicurezza dei processi di gestione delle sosse e deriverà dall'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 dicembre 2023 tra la DNA la Guardia di Finanza il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per conto della DIA e l'UAIF nella documentazione tecnica in via di predisposizione è tra l'altro prevista l'evoluzione del portale SAFE in modo che tutti gli scambi avvengano tramite colloquio diretto fra i server delle autorità la cosiddetta application to application eliminando ogni forma residua di manualità come già accennato al fronte di verificarsi di casi di indebita pubblicazione di notizie tratte da sosse la UIF effettua una sistematica ricostruzione degli accessi degli addetti alle sosse individuandone le motivazioni laddove non evidenti anche con richieste di chiarimento agli addetti stessi e ai titolari dell'unità di base i risultati di tali verifiche avviate sistematicamente nel 2017 a seguito della diretta accessibilità della UIF ai log degli accessi e da luglio 2021 affidate alla citata neocostituita funzione di controllo interno hanno evidenziato sempre accessi compatibili per perimetro orario e frequenza con i ruoli e le funzioni degli addetti dell'unità con riferimento a tutti i casi fin qui emersi di indebita diffusione si è avuto modo di riscontrare che solo un limitato numero di addetti dell'UIF ha avuto accesso alle singole sosse divulgate e sempre nella qualità di incaricate dell'analisi delle stesse o di altre segnalazioni collegate o della lavorazione di richieste delle fiu estere dell'autorità giudiziaria o degli organi investigativi inerenti le persone ai contesti oggetto delle segnalazioni nessun addetto ha avuto accesso al complesso delle sosse oggetto di pubblicazione sulla stampa né a una quota significativa di esse i flussi segnaletici oggetto di diffusione non riguardavano casi per i quali era ancora in corso l'analisi finanziaria della UIF ma contesti già regolarmente disseminati va precisato che la diffusione di notizie sulla stampa ha riguardato soprattutto persone politicamente esposte o comunque persone di rilievo pubblico e spesso attiene a vicende prive di reale interesse ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e pertanto trattate in maniera semplificata in tempi rapidi dalla UIF occorre considerare che su impulso della disciplina europea e in linea con le raccomandazioni del Gafi il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo prescrive lo svolgimento di approfondimenti rafforzati nei confronti delle persone politicamente esposte è per questo motivo che il livello di attenzione dei soggetti obbligati è molto elevato ai fini della collaborazione attiva e ciò si traduce in un aumento delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIF a volte anche in assenza di concreti elementi di sospetto o a mero scopo cautelativo del resto l'attività di analisi finanziaria posta in essere della UIF sulle segnalazioni riguardanti le persone politicamente esposte che rappresentano peraltro una frazione minima delle sosse appena lo 0,7% porta ricorrentemente a ridimensionare gli alert dei soggetti obbligati spesso abbassando i livelli di rischio generati dalle procedure informatiche adottate dai segnalanti al fine di garantire la riservatezza delle segnalazioni il decreto antiriciclaggio contiene cautele normative che riguardano tanto il versante dei segnalanti quanto quello delle autorità i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare adeguate misure di protezione delle informazioni trasmesse la segnalazione deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante occorre omettere riferimenti ai segnalanti nella documentazione eventualmente trasmessa all'autorità giudiziaria che può richiederne l'identità solo con decreto motivato le segnalazioni di operazioni sospette i flussi informativi a esse collegati cioè richieste di informazione segnalanti a relativi riscontri analisi finanziarie interlocuzione con le controparti estere sono assoggettate a un rigoroso regime di riservatezza presidiato anche da sanzioni penali ai sensi degli articoli 38,3 e 3 bis articolo 39,1 e articolo 55,4 del decreto legislativo 231-2007 il cosiddetto decreto antiriciclaggio i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento né possono essere in altro modo rivelati salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede la rilevazione in debita di notizie che consentono l'identificazione del segnalante punita penalmente nonostante l'ampliamento dell'ambito oggettivo delle informazioni coperte da riservatezza operato da ultimo dalla legge numero 15 del 2022 la sanzione penale prevista per la violazione di tali prescrizioni è subordinata all'eventualità che venga disvelata l'identità del segnalante infatti salvo che il fatto non costituisca reato più grave chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da 2 a 6 anni la stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione o delle informazioni trasmesse dalle FIO o il contenuto delle medesime se le notizie rilevate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante si tratta tuttavia di forme di tutela focalizzate sull'identità del segnalante aspetto questo fondamentale per la tenuta del sistema antiriciclaggio ma come testimoniato dai diversi casi anche recenti di pubblicazione di notizie tratte dalle sosse non è sufficiente ad assicurare la riservatezza delle informazioni antiriciclaggio al fine di garantire la tutela di tutte le informazioni afferenti alle sosse sarebbe necessario un ulteriore affinamento del quadro normativo idoneo a sanzionare adeguatamente la pubblicazione in qualunque forma anche del contenuto delle sosse e più in generale di tutte le informazioni provenienti dall'UIF e dalle FIO estere in proposito va considerato che le previsioni dell'articolo 615 TR del codice penale anche con le integrazioni proposte nel disegno di legge sulla cyber security attualmente all'esame del Parlamento non appaiono sufficienti ad assicurare una piena tutela della riservatezza delle sosse in quanto riguardano gli accessi abusivi ai sistemi informatici e non l'uso o la diffusione delle informazioni in esse custodite che potrebbe avvenire anche in presenza di accessi non abusivi sarebbe dunque opportuno superare l'attuale forte differenziazione di sanzioni penali presenti nel decreto antiriciclaggio tesi a punire rispettivamente la rilevazione in debita di notizie idonee a rivelare l'identità del segnalante il citato delitto previsto dall'articolo 38,3 bis punito con la reclusione da 2 a 6 anni e il divieto di comunicazione ai soggetti interessati a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette ovvero del flusso di ritorno negli organi investigativi previsto in materia fattispecie contravvenzionale prevista dall'articolo 55,4 e punita con l'arresto da 6 mesi a un anno e con un'ammenda da 5.000 a 30.000 euro si potrebbe invece prevedere un'unica fattispecie di reato adeguatamente punita per tutelare la riservatezza in sé delle informazioni antiriciclaggio assicurando quindi una piena tutela dei diritti dei vari soggetti coinvolti e la preservazione dell'identità del segnalante semmai con un aggravante per quest'ultima fattispecie qualora questa commissione lo ritenesse opportuno la UIF è disponibile a fornire il proprio contributo per la formulazione di una proposta in materia in tale ambito andrebbe stesa la tutela anche al contenuto delle analisi tecniche della UIF alle comunicazioni di operazioni sospette delle pubbliche amministrazioni di cui è l'articolo 10 del decreto antiriciclaggio nonché alle comunicazioni oggettive di cui è l'articolo 47 del medesimo decreto queste ultime potrebbero anche essere più rilevanti in termini di esigenza di tutela della riservatezza in quanto sono prive dei profili di sospetto valutati dai segnalanti sulla base dell'informazione a disposizione potrebbe inoltre essere opportuno valutare ulteriori cautele in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per assicurare che le segnalazioni di operazioni sospette le comunicazioni oggettive e le analisi tecniche della UIF siano trattate alla stregua di semplici input alle indagini da vagliare sotto il profilo investigativo ai fini della successiva formazione delle prove tali contributi come non sempre avviene resterebbero così estranei al procedimento penale a tutela dell'esigenza di riservatezza connaturate al sistema di prevenzione un ulteriore rafforzamento del regime di riservatezza potrebbe anche derivare dall'idea già formulata in passato dall'UIF di non considerare le segnalazioni di operazioni sospette connessi documenti e le altre comunicazioni laddove si è trascorso un determinato lasso di tempo ad esempio dieci anni dalla relativa ricezione già da tempo nelle risposte fornite all'autorità giudiziaria adottiamo tale prassi salvo laddove non vi sia una specifica richiesta all'acquisizione di informazioni più risalenti nel tempo la normativa la normativa antiriciclaggio non prevede nulla di specifico in proposito i principi alla base del recente ML package e la crescente attenzione posta ai presidi a tutela della privacy spingerebbero in favore di una tale soluzione una norma primaria o anche un accordo in tal senso da parte di tutte le componenti del sistema di prevenzione avallato da una decisione del comitato di sicurezza finanziaria potrebbe risolvere tale problema ritengo infine che i tempi siano maturi anche per definire qualche forma di armonizzazione dei presidi informatici e organizzativi adottati dalle singole autorità che partecipano al sistema di prevenzione individuando linee guida comuni sulla base delle migliori prassi e soluzioni sin cui sviluppate e tenendo conto delle specificità di ciascuna autorità in tal senso si stanno muovendo DNA, Guardie di Finanza DIA e UIF nell'attuazione delle previsioni del citato protocollo d'intesa mi avvio la conclusione i gravi fatti oggetto d'indagine dalla procura di Perugia determinano una situazione di particolare delicatezza per l'attività dell'AUI e per l'intero sistema antiriciclaggio tutti i destinatari delle segnalazioni trattate dall'unità Guardia di Finanza DIA DNA magistrati hanno ripetutamente sottolineato l'importanza cruciale che le segnalazioni assumono nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni criminali concetto ribadito con decisione dagli illustri vertici dell'autorità già udite da Codessa Commissione Il clamore mediatico della vicenda rischia tuttavia di minare la credibilità del sistema anti-money laundering nazionale anche all'estero e di creare danni di reputazione in un momento particolarmente delicato si ricorda in proposito che dall'ottobre 2024 e fino ai primi mesi del 2025 l'Italia sarà sottoposta alla mutual evaluation del GAFI l'attuale regolamentazione già prevede un rigoroso sistema di tutela della segretezza delle segnalazioni che può essere ulteriormente rafforzato nella direzione in precedenza indicata ulteriori miglioramenti possono essere conseguiti con gli interventi di affinamento degli strumenti informatici delle procedure e degli assetti di controllo interno delle varie autorità del sistema antiriciclaggio che già si stanno adoperando in tal senso nell'attuale complesso e difficile contesto eventuali interventi sul delicato e fondamentale strumento delle segnalazioni di operazioni sospette volte a rafforzare la tutela della riservatezza devono essere bilanciati con l'esigenza di assicurare la necessaria conformità con le norme di carattere internazionale ed europeo che regano nel sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e con la necessità di assicurare processi e procedure in grado di gestire in modo efficiente il rilevante flusso di informazioni acquisito ogni anno le proposte sopraformulate degli interventi programmati dalla UIF e dalle altre autorità competenti ritengo siano in grado di conseguire il giusto equilibrio tra la salvaguardia degli obblighi di riservatezza e il mantenimento di un sistema di trattamento delle sosse efficace e al tempo stesso efficiente grazie grazie mille grazie mille dottor Serata io ho già alcuni iscritti a parlare inizio con il senatore canta la messa sì grazie presidente grazie dottore per la relazione e per averla consegnata in maniera tale così ci ha consentito anche di seguirla meglio due premesse uno chiaramente condivido l'indispensabilità delle sosse nel lavoro di investigazione e quindi questo vuol dire un discorso che non deve essere messo in discussione alla stessa stregua quanto è accaduto è da considerare un vero e proprio attacco alla democrazia per cui il clamore mediatico è inevitabile non deve minare il sistema ma come commissione abbiamo il dovere di andare a fondo perché è allucinante quanto è accaduto nel rispetto di tutti i cittadini italiani e sono state importanti queste tre audizioni perché hanno consentito di iniziare a stringere il cerchio cioè noi ci stiamo rendendo conto che il guardia di finanza che DIA che la UIF hanno fatto tutto quanto dovevano e quindi questo già ci permette come commissione di indagini di iniziare a stringere il cerchio perché poi abbiamo visto che sono accaduti di fatti estremamente gravi io parto da un esempio che poi arrivò alla domanda avevamo letto su qualche organo di stampa quindi diciamo su fonti aperte che c'era un fascicolo relativo alla Lega da cinque anni alla direzione nazionale antimafia che non era mai andato ad una procura su questo abbiamo sentito il dottor Melillo il dottor Cantone e ci hanno confermato che è un filone di indagini che si sta portando avanti è stata depositata la nota dal procuratore Melillo dalla quale si vince un verbale in cui le varie procure si lamentavano per non ricevere le SOS dalla direzione nazionale antimafia quando il procuratore era l'onorevole Caffiero De Rao lei è a conoscenza di questo fatto che la direzione lei come istituto parlo chiaramente non lei come persona fisica lei è a conoscenza del fatto che la direzione nazionale non inviava alle procure queste queste SOS grazie Sì grazie onorevole innanzitutto nessun dubbio che i casi emersi evidenziano delle fatti specie di particolare gravità su questo vuole essere molto chiaro riguardo il fascicolo della Lega francamente innanzitutto volevo precisare che io sono in funzione all'UIF con qualità di direttore dal primo gennaio del 2023 quindi questi fatti risalgono prima da quanto mi dicono i miei colleghi abbiamo avuto sentore del fatto che credo nel 2020 c'è stato un periodo di blocco dell'operatività della DNA dovuta probabilmente a un eccesso a un blocco di lavori sulle SOS che gli sono arrivate però non abbiamo informazioni più precise perché naturalmente quello che avviene poi all'interno della Guardia di Finanza della DIA o della DNA insomma non abbiamo conoscenze così molto molto labili per quanto riguarda il fascicolo della Lega anche noi non sapevamo nulla di questo insomma grazie mille onorevole congedo buongiorno direttore anch'io la ringrazio per la relazione anche per averci la fornita prima del suo intervento in modo che questo ci ha permesso di seguirla con grande attenzione grazie anche per averci in qualche modo suggerito delle ipotesi di modifica del sistema sanzionatorio in particolare quelle riferite al decreto legislativo 231 e quindi alla possibilità di unificare le due ipotesi le due fattispecie di reato tra rivelazione in debita e di vieto di comunicazione però vorrei approfittare della sua presenza per portare diciamo approfittare la sua presenza per riportare insomma questo dibattito all'oggetto della seduta cioè alla vicenda striano tanto per essere chiaro e per sintetizzare che sia il procuratore Melillo che il procuratore Cantone hanno definito gravissimo e quindi mi riferisco a quanto già detto da Cantalamessa sulla inevitabilità del clamore mediatico lei nella sua relazione oltre a evidenziare come il sistema dell'ESOS sia un sistema diciamo molto rigoroso di tutela della segretezza e della riservatezza sempre diciamo bilanciandolo con la necessità poi dell'attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e in una parte della sua relazione proprio con riferimento all'indebita diffusione quindi immagino si ferisca ai dati diciamo che hanno avuto clamore mediatico ha sostanzialmente escluso che possa essere derivata ad addetti UIF diciamo la fuoriuscita di queste informazioni in quanto insomma l'accesso era limitato a un numero circoscritto di addetti che nessuno ha avuto accesso nessun addetto ha avuto accesso al complesso del suo soggetto di pubblicazione che i flussi segnaletici oggetto di diffusione non riguardavano casi per i quali ancora analisi finanziaria della UIF allora vorrei chiederle se quindi esclude categoricamente chiamiamoli rapporti non istituzionali o opachi tra addetti UIF e il luogotenente della Guardia di Finanza Striano se diciamo l'UIF ha avuto indizi di problematiche di fuga di notizie prima che fossero pubblicati sulla stampa e se a suo giudizio ritiene che ci siano stati rapporti non formali tra addetti UIF e Guardia di Finanza Procuratore e Procure Territoriali o la Procura o la DNA la Direzione Nazionale Antimafia grazie riguardo la vicenda Striano naturalmente Striano nel periodo in cui ha lavorato alla DNA aveva rapporti di collaborazione con noi come avviene normalmente non mi risulta che ci siano stati rapporti che andassero al di là dei rapporti di tipo istituzionale riguardo alle detti dell'UIF io escludo che qualcuno sia responsabile dei possibili fuoriuscite di notizie sulla base ovviamente della conoscenza del livello di integrità e di rigorosità delle persone ma anche sulla base di fatti oggettivi noi abbiamo fatto ogni volta che c'è stata una disseminazione di sosse sulla stampa delle analisi molto puntuali su chi ha avuto accesso per quali motivi ha avuto accesso a quelle sosse e l'altra cosa che abbiamo riscontrato è che nessuno ha avuto accesso a tutte le numerose sosse che sono uscite sui giornali quindi evidentemente non può esserci una persona ma semmai dovebbe esserci un insieme di persone che abbiano disseminato in maniera irregolare le sosse all'esterno cosa che francamente mi sento discludere quindi insomma le affermazioni che ho svolto si basano su analisi puntuali che abbiamo fatto all'interno dell'UIF riguardo agli indizi su fughe di notizie prima della pubblicazione della stampa francamente lo escludo insomma noi ogni volta che escono sosse sulla stampa ovviamente facciamo le nostre analisi interne andiamo a verificare chi ha avuto accesso svolgiamo i controlli e anche sentiamo le persone che sono eventualmente coinvolte per verificare se l'accesso a quelle informazioni era giustificato ma non abbiamo notizie insomma di possibili fughe prima che siano state pubblicate sulla stampa sono attività che svolgiamo quando riscontriamo sulla stampa informazioni ovviamente che avrebbero dovuto essere riservate grazie senatore nave grazie presidente innanzitutto grazie per la sua relazione volevo gentilmente chiederle se è possibile avere a livello numerico cioè quante sosse sono state inoltrate per esempio vorrei fare riferimento alla direzione nazionale antimafia e se è possibile avere appunto dei dati annuali per capire anche la mole di segnalazioni che ovviamente vengono inviate e questo è un dato importante e poi specificare anche chiedo questo come arrivano cioè esempio la dna c'è stato spiegato arrivano in modalità criptata ecco e poi che seguito hanno quindi se è possibile dottore avere da lei anche questa precisazione poi vorrei chiederle se si sono mai verificati accessi abusivi alle banche dati WIF e se esistono avete degli alert di sistema per segnalare degli accessi anormali diciamo chiamiamoli così alle vostre banche dati poi le vorrei chiedere chi sono e quanti sono i soggetti dell'UIF e della Banca d'Italia diciamo abilitati ad accedere e chi sono e se ci sono soggetti esterni abilitati e se ci sono tra questi ci sono anche l'AIS l'AISI o addetti alla presidenza del consiglio e chiudo perché lei comunque lo cita però magari una specificazione per quanto riguarda i protocolli che sono stati stipulati con la DNA se può magari integrarci il contenuto ecco di questi protocolli e in che date appunto sono stati stipulati grazie prego direttore solo per dire a tutti i commissari che a pagina 7 ci sono i dati sul numero delle SOS come già riportato nella relazione Sì dunque come è scritto appunto la relazione alle SOS che riceviamo sono circa 150.000 all'anno nel 2023 queste vengono poi interamente condivise sia con la DIA che con la Guardia di Finanza alla DNA mandiamo solamente non le SOS ma alcuni dati e informazioni delle SOS con riferimento ai nominativi che matchano sulla base del matching anagrafico e queste rappresentano in circa un 15-16% di SOS all'anno quindi su 150.000 saranno tra le 20-25.000 segnalazioni vengono inviate tramite il portale SAFE attualmente il portale SAFE trasmette queste informazioni in maniera criptata ma c'è ancora una manualità all'interno sia della DIA della Guardia di Finanza e della DNA per cui qualcuno deve scaricare queste informazioni e inserirle all'interno delle procedure specifiche informatiche di queste autorità come ho detto nella relazione è prevista un'implementazione ulteriore di questo sistema in maniera tale che le procedure si parlino in maniera automatica quindi senza bisogno che ci sia qualcuno che scarica le informazioni e le inserisce nel database delle varie autorità quindi eliminando anche quest'ultima area di manualità accessi abusivi a banche date UIF da parte dall'esterno lo escludo totalmente perché nessuno accede dall'esterno alle base dati dell'UIF come sa noi le informazioni le trasmettiamo alla guardia di finanza la DIA la DNA loro le inseriscono nei loro sistemi informatici quindi non c'è nessun colloquio da parte di soggetti esterni con le nostre base dati ovviamente abbiamo i soggetti segnalanti che ci inviano le informazioni ma i soggetti segnalanti possono accedere solo alle loro informazioni non a quelle delle altre banche degli altri soggetti obbligati ovviamente quanti soggetti abilitati all'UIF sono un numero abbastanza cospicuo perché nel servizio operazioni sospette lavorano circa 90 persone ovviamente sono tutti abilitati ma ci sono altre divisioni che si occupano di rapporti con la magistratura dei rapporti con le FIU estere e anche questi sono abilitati quindi insomma siamo intorno credo alle 140 150 persone e naturalmente i log che noi effettuiamo e i controlli che effettuiamo li svolgiamo nei confronti di tutti i colleghi credo riguardo ai protocolli il protocollo d'intesa è particolarmente importante quest'ultimo che abbiamo firmato nel dicembre del 2023 perché consente una estrema trasparenza dello scambio di informazioni cioè noi oggi sappiamo le informazioni che mandiamo la DNA ma non sappiamo se la guardia di finanza la DNA e la DIA abbiano collocato tra di loro e se siano scambiate delle sosse in questo nuovo sistema il tutto diventerà molto più trasparente inoltre aumenteremo anche il numero di informazioni che trasmettiamo alla DNA e soprattutto faremo evolvere il sistema in maniera con maggiori requisiti di sicurezza in particolare attraverso appunto questa evoluzione di application to application che consente il completo automatismo dello scambio di informazioni grazie mille una precisazione riguardo l'Aisi e l'Aise noi non abbiamo naturalmente rapporti con l'Aisi e l'Aise ma non abbiamo scambio di sosse cioè noi non inviamo le sosse quindi nel caso in cui emergano un interesse dell'Aisi o dell'Aise per alcune tipologie di informazioni noi facciamo una relazione basata sulle informazioni di cui disponiamo ma non trasmettiamo le sosse all'Aisi prego onorevole Decorato sì grazie dottore nel rispondere al collega congedo lei ha parlato di rapporti con l'UIF di Striano e quali sono questi rapporti se è possibile e poi se avevate rapporti con Striano è chiaro che avevate rapporti anche con laudati e vorrei richiedere anche qui di che parliamo e quindi se si può essere un po' più chiaro poi lei fa riferimento a un argomento che non riguarda proprio le sosse ma che è una cosa che mi interessa anche come esponente della commissione della prima commissione della Camera alla quale lei è andato sulla cyber security e perché lei dice una cosa che mi ha un po' allarmato attualmente all'esame del Parlamento parliamo della legge sulla cyber security non appaiono sufficienti ad assicurare una piena tutela della riservatezza delle sosse in quanto riguardano gli accessi abusivi e questo lo abbiamo accertato dall'inchiesta ma quello che in relazione a questo e quindi le chiedo poi di farci lei dice qualora codesta commissione lo ritenesse opportuno la UIF è disponibile a fornire il proprio contributo per la formulazione di una proposta in materia dottore credo che sia utile sia al comitato antimafia ma anche alla prima commissione perché se lei ritiene che è inutile sulla riservatezza e alla cyber security è su questo che si gioca la partita soprattutto dopo tutta la vicenda delle sosse quindi se lei ci dice che è disponibile la UIF a darci un contributo ce lo dia ci mancherebbe anche perché sulla cyber security è su questo che insomma diciamo che è il grosso del problema sul quale stiamo cercando con il sottosegretario Mantovano di affrontare in prima commissione per cui anche su questo direi che lei questo contributo ce lo facesse avere e in quella sede e in questa grazie benissimo grazie onorevole allora riguardo i rapporti con Striano e Laudati erano rapporti normali di lavoro come li abbiamo oggi con i responsabili del del settore della DNA che si occupa di segnalazioni sospette quindi ovviamente noi abbiamo uno scambio di informazioni anche all'atere e quindi abbiamo avuto scambi di informazioni anche con il dottor Laudati e con il tenente Striano insomma che rientrano però nei normali rapporti che abbiamo essendo loro all'epoca uno responsabile del settore che si occupava delle sosse e il tenente Striano essendo un punto di riferimento importante di quella struttura quindi ci sono stati scambi di informazioni assolutamente assolutamente normali riguardo sulla cyber security insomma sono molto lieto che possa essere utile un contributo dell'UIF perché abbiamo notato appunto leggendo il decreto sulla cyber security tra l'altro ieri ho svolto anche una breve audizione informale presso le commissioni prima e seconda della Camera su questo tema e ho formulato esattamente la stessa proposta e disponibilità di contributo la cyber security ha aumentato le pene con riguardo agli accessi abusivi alle base dati però la diffusione in debita di informazioni può riguardare accessi che non siano abusivi magari da parte di un soggetto che ha già le credenziali per accedere e quindi non ha forzato i sistemi informativi per entrare oppure qualcuno che ha svolto anche in maniera giustificata l'accesso a determinata informazione e poi indebitamente le ha cedute all'esterno nel caso Striano per esempio non escludo che lui avesse diciamo dei motivi per poter accedere a quelle segnalazioni salvo che poi magari le ha passate all'esterno quindi sono due fattispecie cioè l'articolo 615 anche con le modifiche del decreto sulla cyber security non copre interamente questo tipo di fattispecie per altro verso nel decreto antiriciclaggio le due fattispecie sono punite in maniera completamente diversa cioè è punita molto severamente la diffusione dell'identità del segnalante che ovviamente per quanto riguarda l'antiriciclaggio è un aspetto fondamentale perché questo va a salvaguardia della persona fisica che materialmente fa la segnalazione sospetta in caso in cui venisse rivelato il nome è possibile che ci possano essere forme di ritorzione quindi questo è un aspetto assolutamente fondamentale però come i fatti di questi giorni evidenziano risulta fondamentale anche la diffusione delle informazioni in sé delle segnalazioni sospette perché riguarda insomma poi il diritto alla privacy delle persone insomma e quindi crediamo che anche questa fattispecie che oggi non è coperta se non in misura molto lieve non è coperta in maniera adeguata dalla sanzione penale per cui insomma l'idea che avevamo era appunto quella di formulare una proposta di rafforzamento della tutela che riguarda sia l'identità del segnalante sia i soggetti inclusi nell'eventuale segnalazione sospetta pubblicata e magari con un aggravante nel caso in cui si è rivelata l'identità del segnalante che è un fatto particolarmente particolarmente gravo quindi se anche la commissione lo ritiene insomma siamo davvero felici di poter contribuire ovviamente sì tenendo conto del fatto che noi non abbiamo potere legislativo quindi possiamo semplicemente farlo per utilità della commissione in senso stretto e a questo punto ho iscritto il senatore Nave grazie presidente ringrazio anche il dottore per la relazione e nelle varie audizioni che abbiamo avuto l'impressione non solo l'impressione ma la constatazione di fatto è la come dire la capacità dei database forniti ai vari enti di robustezza oggi leggevo algoritmo di hash per l'informazione quindi tutto questo rende l'informazione sicura da accessi esterni la criptografia funziona tutti i database dei vari enti sono sicuri e tutto quindi si lega unicamente all'infedeltà degli uomini che hanno le capacità e la possibilità in base ai profiler e alla profilazione che avviene dai vari enti sull'accesso leggo oggi dalla relazione che anche l'OIF in realtà rappresenta un piccolo universo perché a sua volta nel momento in cui avete l'esos però fate approfondimenti su altri database esterni così quindi a scalare anche lo stesso problema di accessi abusivi potrebbe avere la Banca d'Italia perché in realtà tutto il controllo che potete fare voi ex post mai ex ante perché questo non deve inficiare il lavoro della persona se deve fare il controllo non può subire questo l'abbiamo sentito dire anche dal procuratore Cantone quando diceva che il sottoposto non può dar conto dell'azione investigativa al suo superiore quindi fa i suoi accessi per fare il controllo in atto quindi in che modo voi potete garantire la sicurezza e quindi il controllo sull'infedeltà degli uomini perché poi è lì che si accede e c'è tutto il gira intorno a questo laudato estriano si sono comportati in modo infedele hanno fatto accessi abusivi grazie all'autorità che le era stata concesso con la profilazione su vari database e poi ne hanno fatto un uso illecito quindi in realtà sarebbe interessante capire il vostro metodo di controllo perché in realtà potrebbe aiutare a sua volta gli altri enti visto che tutti gli accessi delle source avuti su pubblicati poi mai risultano relativi così come lei ha affermato segnalazioni che provenivano da parte di Banca di Italia quindi dall'OIF e l'altra invece l'altra domanda è che se in base a quelle che sono tra le capacità le possibilità che le vengono assegnate per il loro che ha quindi anche in passato voi avete accesso ad informazioni particolari su quello che accade all'interno della DNA o delle procure o in realtà quello su cui tra l'altro ha risposto lei prima al collega Cantalamessa fosse semplicemente una relazione dovuta a un gossip insomma sul fatto che non venivano c'era stato un blocco di informazioni da parte della DNA alla DIA ad altri grazie si guardi allora riguardo gli accessi abusivi noi ovviamente abbiamo bisogno di incrociare i dati le sosse con altre con altre base dati tipicamente quelle gestite dalla SOGGI l'anagrafe tributale è un'anagrafe dei rapporti questo è assolutamente indispensabile per poter arricchire e svolgere gli approfondimenti tipo finanziario controllo ex ante in realtà noi l'abbiamo messo in piedi come specificato nella relazione ogni volta che un collega accede o ha bisogno di accedere all'anagrafe tributale e all'anagrafe dei rapporti sulla base degli accordi presi con SOGGI con le quali è stato sottoscritto un accordo nel 2015 se non ricordo male l'accesso alle base dati deve essere autorizzato dal superiore gerarchico quindi insomma non è possibile che una persona da sola possa accedere a queste informazioni senza avvertire il superiore gerarchico che ovviamente valuterà l'attinenza di quell'accesso rispetto agli approfondimenti che sono svolti riguardo al controllo ex ante effettivamente il controllo ex ante nel nostro caso è particolarmente complesso perché i colleghi hanno accesso a un numero molto ampio di segnalazioni sospette e di informazioni quindi un controllo diciamo di tipo insomma al momento è assolutamente impossibile quello che stiamo mettendo in piedi è un sistema di monitoraggio che già viene svolto oggi ma in maniera saltuaria stiamo sulla base della regolamentazione che abbiamo manato nel novembre dello scorso anno stiamo mettendo in piedi un sistema di monitoraggio che evidenzia alcuni accessi particolari degli alert quindi diciamo un monitoraggio sugli accessi anomali faccio un esempio insomma accessi che vengono svolti dal di fuori dell'orario di lavoro a tarda notte o nel weekend o durante i periodi di ferie insomma e in questi casi insomma evidenziare questi accessi anomali in maniera tale che i capi poi chiedano contezza di questi accessi alle persone interessate è un sistema che stiamo mettendo mettendo in piedi adesso e come dicevo abbiamo anche intenzione di condividerlo con la DIA la Guardia di Finanza e la DNA in maniera tale da adottare un sistema che sia più o meno coerente tra tutti gli attori che svolgono questo tipo di accertamenti riguarda le informazioni interne alla DNA e le procure noi ovviamente non abbiamo contezza di quello che avviene all'interno di queste autorità insomma noi lo sappiamo per scambi di informazione così per chiacchiere svolte in maniera del tutto informale nel caso della DNA mi hanno riferito ai colleghi che durante il lockdown c'è stato un periodo di blocco proprio 2019 2020 un periodo di blocco dovuto alle difficoltà della DNA di accedere dovuto insomma al lockdown e in quel caso ci sono stati anche da parte nostra un ausilio particolare nei confronti della DNA consentendogli di svolgere il lavoro in maniera più efficace e credo che anche in quell'occasione probabilmente quel blocco del due evinamento fosse dovuto anche a questi fatti però non abbiamo nulla non sappiamo nulla di preciso mille vicepresidente Dattis anche da parte mia sono qui anche da parte mia i ringraziamenti per la per la relazione che diciamo mettiamo da parte per tutte le indicazioni che ci avete dato però mi piace dire che siete stati richiesti in audizione qui perché la commissione antimafia si occupa si sta occupando dell'inchiesta del dossieraggio lo dico perché anche rispetto ad altri auditi forse diciamo non siamo stati chiari abbastanza nelle convocazioni ci viene rappresentato cioè sembrano quasi audizioni io sono abituato alle audizioni parlamentari probabilmente anche lei però diciamo questa non è un'audizione parlamentare normale perché mi ha fatto bene il presidente a dire che non è qua per una questione legislativa che stiamo stiamo qui perché c'è una inchiesta su un dossier che è stato fatto per il quale viene sospettato insomma un dossieraggio illegale che coinvolge tutti quelli che operano nel sistema e quindi l'UIF ci sta io ho apprezzato insomma il fatto che lei abbia limitato anche il suo incarico come data temporale perché ci ha detto io fino a quel giorno da quel giorno in poi sono in questo ufficio però noi dobbiamo pure noi chiamiamo l'UIF non chiamiamo il protempore dell'UIF quindi ci aspettiamo che il responsabile dell'UIF in carica risponda anche a tutto ciò che era precedente per esempio mi fa riflettere e le devo fare una domanda la sua affermazione che dice no il protocollo del 2023 funziona la domanda che fa quindi il commissario della commissione antimafia è ma perché prima non funzionava cioè se fa una distinzione tra il protocollo del 2023 e quelli precedenti non funzionava perché le faccio questa domanda perché tutta questa cosa che lei ha definito del clamore mediatico quasi raccomandando ai commissari della commissione parlamentare un po' più di cautela o tutti quelli che ne stanno parlando così sembrava il collega Cantalamessa ha fatto bene diciamo a dirglielo in toni molto diplomatici io sono meno diplomatico da questo punto di vista cioè qua non c'è nessun clamore mediatico qua c'è un'inchiesta della procura per la quale la commissione parlamentare antimafia è stata interessata perché il procuratore nazionale antimafia il procuratore titolare delle indagini hanno chiesto di essere auditi tra l'altro in forma non secretata caso mai diciamo si è perso qualche articolo di giornale glielo sto dicendo io perché stiamo qui oggi quindi perché ha detto che il 2023 funzionava quel protocollo quindi se gli altri non funzionavano perché gliela faccio questa domanda perché tutto quello che è accaduto è accaduto proprio prima del 2023 quando cioè c'erano questi protocolli e poi vorrei chiedere il suo punto di vista sul periodo che lei ha brevemente sinteticamente riportato del 2017 siamo perché siamo lì intorno a quella data cioè noi stiamo leggendo anche dei verbali tra la procura nazionale e le varie procure territoriali di procure territoriali che manifestano anche un certo disagio perché a queste non gli arrivano neanche più le SOS perché si fermano alla procura nazionale di antimafia cioè cosa è accaduto in quel periodo che l'UIF sa intorno al 2017 cioè l'UIF nel 2017 era a conoscenza di questo fatto che sta emergendo anche da altri documenti cioè che le SOS così come dovevano essere regolarmente inviate e non accentrate come dice qua rispetto alla normativa dalla direzione nazionale antimafia stava accadendo cioè che stava accadendo stava accadendo questo perché il leale rapporto di collaborazione con l'ogotenente Striano riprendo le ultime affermazioni che lei stesso ha fatto con l'ufficio ci fanno intendere insomma che c'erano dei rapporti e quindi tutto ciò che avveniva era anche di conoscenza dell'UIF pro tempore ovviamente non riguarda l'attuale dirigenza ovviamente però se mi può se può rispondere a queste due domande sul protocollo e su il periodo 2017 come lo valuta che valutazione gli dà per farci capire l'UIF in questo come ha vissuto il 2017 e dintorni insomma grazie bene riguardo al protocollo come ho detto nel protocollo nel 2023 abbiamo firmato questo nuovo protocollo che sostituisce un protocollo di qualche anno prima in realtà in passato si era riscontrata una certa incoerenza tra il protocollo tra i protocolli firmati bilateralmente tra le varie autorità quindi questo protocollo ha avuto il merito direi insomma di razionalizzare il meccanismo dei flussi informativi insomma come funziona lo scambio di informazioni tra le singole autorità individuandole con maggiore precisione arricchendo anche lo scambio informativo poi è stato concordato anche un maggior requisito di sicurezza attraverso l'implementazione di questa funzione application to application perché in precedenza come ho già sottolineato i trasferimenti di informazioni avvenivano sempre attraverso la procedura SAFE quella criptata e sottoposte ai requisiti di sicurezza ma questo riguardava solo i flussi che andavano dalla Banca d'Italia alla Guardia di Finanza alla Banca d'Italia alla DNA e la Banca d'Italia alla DIA non riguardavano gli scambi tra Guardia di Finanza DIA e DNA in questo caso il portale è stato ampliato in maniera tale che possa gestire anche gli scambi tra Guardia di Finanza DNA e DIA e poi con l'implementazione di questa funzione di application to application che è particolarmente importante perché evita come sottolineavo in precedenza di dover scaricare dalla piattaforma SAFE le informazioni e caricarle in maniera manuale nei sistemi delle diverse autorità per quanto riguarda il 2017 mi spiace insomma non riguarda